ben trovati amici e amiche dell'università ipina del tempo libero oggi vorrei soffermarmi a considerare il canto quindicesimo dell'inferno che descrive il passaggio di dante nel cerchio dei violenti il settimo cerchio che a sua volta è diviso in tre gironi quello dei violenti contro il prossimo e le cose altrui quindi omicidi e predoni quello dei violenti contro se stessi e le proprie cose quindi suicidi e scialacquatori e quello dei violenti contro dio contro la natura e contro l'arte e quindi empi sodomiti e usurai o in particolare per essere precisi diciamo dante parla dei peccatori che si sono macchiati di vari di questi vari tipi di violenza nei canti dal dodicesimo al diciassettesimo dell'inferno e diciamo in particolare oggi magari consideriamo il canto quindicesimo quello che che parla dei peccatori contro natura cioè i sodomiti fra i quali dante incontra il suo maestro brunetto latini al quale si sente molto legato perché entrambi sono poeti entrambi hanno partecipato alla vita politica della loro città e poi perché entrambi sono stati mal compresi e costretti quindi all'esilio nella penombra del paesaggio dalla schiera dei dannati che si apprestano a passare davanti a dante esce appunto brunetto latini il suo vecchio maestro il quale si meraviglia di trovare dante cioè un vivo nell'inferno nel mondo dei morti così come il discepolo si meraviglia di trovare il suo maestro in quel cerchio nel colloquio diciamo fra discepolo il maestro si nota una certa emozione possiamo dire no perché dante ammira ancora il maestro perché diciamo aveva questa funzione di di educatore di principi morali e aveva aveva sempre portato avanti gli ideali del vivere civile e il ben fare dice dante o a brunetto appunto dante si sente vicino oltre che per ragioni affettive possiamo dire anche perché come dire diciamo c'è lui sente avverte una certa somiglianza nel fra il suo compito di intellettuale e quello del del suo maestro perché infatti come dire anche anche lui come il suo maestro era impegnato nella lacerata vita politica di firenze e quindi riflette sul fatto che nella società per quanto possa essere come dire guida diciamo guidata fornita anche di uomini diciamo insomma che sono di aspetto di qualità pregevole che siano onesti seri può capitare sempre che comunque ci siano sorgano come dire discordi e odi feroci insomma ecco questa è una cosa che su cui dante riflette insomma o brunetto lo chiama affettuosamente figliuolo e gli dice che durante la vita aveva notato le sue grandi doti morali e intellettuali e lo esorta ad essere sempre onesto e coerente fedele diciamo ai suoi ideali perché solo così potrà raggiungere la gloria però purtroppo come dire i suoi concittadini lo ostacoleranno nonostante appunto anzi proprio perché proprio perché lui è onesto e disinteressato e d'altra parte dante si rende conto che non ci può essere un compromesso fra appunto la sua onestà e l'arrivismo della classe politica che si trova a firenze che classe politica che è formata da gente superba avara e invidiosa o mi verrebbe da dire che tutto ciò è molto attuale o brunetto dice anche di lasciare che i fiorentini discendenti dai fiesolani si becchino fra di loro cioè se si sbranino a vicenda potremmo dire e lasciano stare la pianta cioè l'albero che potrebbe essere come dire insomma paragonato a dante praticamente se appunto insomma c'è qualcuno ancora onesto lo lasciano stare perché solo in questo modo si può sperare di ottenere qualcosa insomma di buono dante risponde a brunetto che se fosse per lui se potesse salutare un suo desiderio brunetto non sarebbe lì sarebbe ancora in vita ma sarebbe quindi ancora vivo perché dante dice ricorda ancora la buona la cara e buona immagine paterna di quando brunetto gli insegnava come si possa raggiungere la gloria e l'eternità insomma con con un agire virtuoso possibilmente o inoltre dante dice che per quanto lo riguarda lui è è preparato anche a come dire a subire a sopportare i colpi che la che la la sorte gli potrà riservare perché ecco magari perché immagina che potrà essere anche triste negativa come appunto è quasi sicuro dante perché diciamo la sua coscienza non gli debba rimproverare nulla insomma poi domanda al suo maestro chi siano quei dannati che sono con lui nel nel girone insomma e brunetto gli risponde che furono soprattutto uomini di chiesa e letterati famosi e che si macchiarono dello stesso suo peccato o dobbiamo dire che nel medioevo era comune l'accusa che veniva fatta a preti a monaci di essere invertiti e meno frequente forse la come dire l'accusa che veniva che poteva veniva fatta agli intellettuali di dimacchiarsi di questa stessa colpa insomma dunque diciamo una cosa del fatto che brunetto fosse un sodomita noi lo apprendiamo solo da dante il quale forse aveva sentito una diceria e l'aveva presa come vera insomma però diciamo comunque brunetto è lì perché soprattutto perché ebbe la presunzione di fondarsi solo sulla propria razionalità e questa presunzione è anche alla base della sua omosessualità come se lui volesse affermare la sua indipendenza dalle leggi umane e divine in effetti brunetto è l'intellettuale che ha disdegnato diciamo ha dimenticato ha tralasciato il fine trascendente della scienza umana quindi da una parte brunetto è ammirevole per la sua onestà per l'insegnamento che diede ai giovani per la dignità con cui affrontò anche l'esilio ma la sua ricerca di indipendenza da dio lo rende colpevole secondo il modo di pensare medievale diciamo ho una notazione di carattere storico diciamo che in questo girone fra le anime che Brunetto cita nel corso del suo dialogo con Dante ci sono ben cinque fiorentini e può darsi che questa sia una diceria accolta da Dante però lo storico inglese Davidson dice che nella sua opera monumentale che si intitola Storia di Firenze dice che in nessun paese come in Italia nel Medioevo e soprattutto a Firenze era tanto diffusa la pederastia al punto che in Germania addirittura si diceva, si usava il termine florenzer per indicare i pederasti e si usava il verbo florenzen cioè fiorenzare come fosse per indicare questo vizio ma va bene chiusa questa parentesi insomma di natura storica diciamo che dal punto di vista poetico questo canto è incentrato sull'incontro di Dante con il suo passato possiamo dire e quindi nelle parole di Brunetto noi avvertiamo tutta la tenerezza del maestro verso il suo discepolo Dante sembra quasi chiedersi se ha meritato di essere trattato come un malfattore insomma dai suoi concittadini e quindi però ha il conforto del suo maestro che lo apprezza e ammira appunto la sua dignità e la purezza dei suoi intendimenti quindi possiamo dire una cosa usando le parole del critico Pio Baldi che questo canto costituisce una esaltazione della dignitosa figura di Dante Esule ora vi leggo alcuni versi diciamo i versi centrali del canto così adocchiato da cotalfamiglia fui conosciuto da un che mi prese per l'Olimbo e gridò qual maraviglia abbiamo detto che Brunetto si meraviglia di trovare Dante lì e io quando il suo braccio a me distese ficcai gli occhi per lo cotto aspetto nel suo aspetto un po' bruciato sì che il viso abbruciato non difese la conoscenza sua al mio intelletto cosicché il suo volto un po' bruciato dalle fiamme non impedì che io lo riconoscessi e chinando la mano alla sua faccia risposi siete voi qui Ser Brunetto? e quelli oh figliuol mio non ti dispiaccia se Brunetto latino un poco teco ritorna indietro e lascia andare la traccia cioè la fila degli altri dannati dove lui stava io dissi lui quanto posso ven prego e se volete che con voi m'asseggia farò se piace a costui che vos seco dice io vi prego sì ho piacere di parlare con voi e se volete che io mi fermi lo farò se Virgilio col quale io sto camminando è d'accordo oh figliuol disse qual di questa greggia s'arresta punto giace poi cent'anni senza arrostarsi quando il fuoco il feggia dice no chi di noi di questo gruppo di anime si ferma poi deve scontare altri cento anni senza potersi difendere quando il fuoco lo colpisca però va oltre quindi perciò cammina e io ti verrò ai panni ti verrò di fianco e poi rigiugnerò la mia masnada che va piangendo i suoi eterni danni quindi tu continua a camminare io ti verrò a fianco e poi raggiungerò il gruppo dei miei dei dannati come me io non osava scendere della strada per andare par di lui ma il capo chino tenea come uom che treverente vada e il cominciò qual fortuna o destino anzi l'ultimo di qua giù ti mena e chi è questi che mostra il cammino quindi Brunetto gli chiede come mai sta lì prima della morte insomma lassù di sopra in la vita serena risposi a lui mi smarrì in una valle avanti che l'età mia fosse piena quindi io mi persi quando ero in vita in una selva al culmine della mia vita cioè intorno abbiamo detto ai 30-33 anni pur ieri mattina le volsi le spalle questi mi apparve tornando io in quella e riducemi a ca per questo cale quindi mi stavo girando indietro quando mi apparve Virgilio che mi riporta appunto sulla retta via ed è lì a me se tu segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto se ben mi accorsi nella vita bella e se io non fossi sì per tempo morto veggendo il cielo a te così benigno dato t'avrei all'opera conforto dice Brunetto gli dice se tu segui il tuo destino potrai raggiungere veramente la gloria se ho capito bene quando ero in vita le tue doti appunto intellettuali e morali e se io non fossi morto insomma così per tempo vedendo che il cielo era così propizio che ti aveva dato queste grandi doti io ti avrei ancora ulteriormente confortato ma quello ingrato popolo maligno che discese di fiesole ad antico e tiene ancora del monte e del macigno ti si farà per tuo benfar nemico ed è ragione che tra gli lazzi sorbi si discombien fruttare al dolce fico dice ma purtroppo il popolo di Firenze che discende dai fiesolani e ha ancora conserva ancora la rozzezza antica diventerà nemico tuo e si capisce bene questo fatto perché fra gli aspri sorbi fra le sorbe aspre non può sorge non può nascere il dolce fico vecchia fama nel mondo li chiama orbi gente avara invidiosa e superba dai loro costumi fa che tutti forbi quindi sono come ciechi se non sanno vedere il bene sono gente avara invidiosa e superba e tu cerca di stare lontano da loro pulisciti dai loro costumi sporchi dalla loro cattiveria la tua fortuna tanto onorti serba che l'una parte e l'altra avranno fame di te ma lungi fia dal becco l'erba quindi ecco entrambe le parti le fazioni in lotta fra loro vorranno sbranarti ma l'erba dovrà stare lontana dal caprone faccian le bestie fiesolane strame di lor medesme e non tocchino la pianta se alcuna sorge ancor in lor letame in cui riviva la semenza santa di quei roman che vi rimaser quando fu fatto il nido di malizia tanta quindi le bestie fiesolane quindi discendenti abitanti di fiesole facciano foraggio di loro stessi si mangino si sbranino fra loro e non tocchino la pianta l'albero se ne sorge ancora qualcuno puro degno fra la loro sozzura in cui appunto riviva il seme dei romani che rimasero in Firenze quando fu costruito questo nido di tanta di tanta cattiveria e malizia se fosse tutto pieno il mio dimando risposio lui voi non saresti ancora dell'umana natura posto in bando che in la mente meffitta e ormaccora la cara e buona immagine paterna di voi quando nel mondo ad ora ad ora mi insegnavate come l'uomo setterna ecco dice Dante se io potessi esaudire il mio desiderio voi non sareste qui in questo cerchio non sareste morto perché nella mente mi è ancora rimasto e ancora lo ricordo con piacere l'immagine di voi la vostra buona immagine come di un padre quando mi insegnavate come l'uomo può aspirare all'eternità appunto con l'onestà l'umanità i gesti dignitosi e quanti io l'abbia in grado mentre io vivo conviene che nella mia lingua si scerna quindi e io finché vivo lo dirò sempre ricorderò sempre il vostro insegnamento ciò che narrate di mio corso scrivo e servolo a chiusar con altro con altro testo a donna che saprà se a lei arrivo quindi ciò che voi mi dite della mia vita futura io cercherò di scriverlo e di ricordarlo per chiarirlo magari in un altro testo in un'altra composizione ad una donna che saprà se riesco ad arrivare a lei cioè a Beatrice tanto voglio che vi sia manifesto purché mia coscienza non mi garra che alla fortuna come vuol son presto ecco diciamo che queste sono tra le parole più alte virili che Dante esprime sul suo futuro di Esule ecco lui dice io voglio soltanto che vi sia chiaro pur perché la mia coscienza non mi rimproveri che sono pronto alla alla sorte ad affrontare la sorte qualunque essa sia non è nuova agli orecchi miei tale arra per oggi rifortuna la sua rota come le piace e lillan la sua marra quindi non è nuovo non è nuova ai miei orecchi questa predizione del mio futuro un po' diciamo un po' un po' difficile perché lui sa che andrà in esilio ecco però la fortuna continua a girare la sua ruota tranquillamente così come il contadino gira muove la sua zappa lo mio maestro allora in sulla gota destra si volse indietro e riguardò mi poi disse bene ascolta chi la nota quindi Virgilio si girò verso di me e disse che ascolta utilmente chi imprime nella memoria le cose udite quindi che Dante ascolta e farà tesoro di quello che ha udito cioè riguardo al suo futuro né pertanto di me in parlando vommi con Ser Brunetto e dimando chi sono i suoi compagni più noti e più sommi e tuttavia quindi continuo a parlare e senza fermarmi a parlare con Ser Brunetto e chiedo chi siano quelle le anime di quei dannati che vanno con lui ed egli a me saper di alcuno è buono degli altri fia laudabile tacerci che il tempo saria corto a tanto suono insomma sappi che tutti furcherci e litterati grandi e di gran fama d'un peccato medesmo al mondo lerci e quindi ed egli mi dice magari di qualcuno è bene che tu sappia e ora te li nominerò degli altri è inutile è meglio tacere stare zitti perché non basterebbe il tempo per nominarli tutti comunque sappi una cosa che furono soprattutto chierici quindi uomini di chiesa e anche letterati quindi intellettuali famosi anche tutti quanti si sono sporcati di questo stesso peccato di cui mi sono macchiato io e poi continua facendo i nomi eccetera va bene io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buone cose arrivederci e vi auguro